Si è costituito pochi giorni fa il Comitato Promotore per la Costituzione del Comune Unico della Val d'Orcia. Su iniziativa popolare prende così vita il progetto di un unico comune valdorciano che riunisca Castiglione d'Orcia, Pienza, San Quirico d'Orcia e Radicofani. Quattro comuni che insieme, secondo gli esponenti del comitato, darebbero un'immagine più unitaria della Val d'Orcia, territorio con una enorme potenzialità. Ci siamo mossi partendo dai cittadini, anche se ovviamente, come tutti sappiamo, le fusioni alla fine devono sempre passare per un referendum popolare, quindi sia che l'iniziativa la prendano le amministrazioni, sia che la prendano i cittadini con la raccolta di firme, per il referendum si deve passare. Siccome si tratta di un'ipotesi di fusione come minimo di quattro comuni, ovvero quelli che sono in Val d'Orcia, Montalcino come sappiamo ha già fatto una fusione pochi mesi fa e quindi penso è legittimo che non siano interessati, almeno in una prima fase, a questo processo. L'idea nostra è raccogliere adesioni fra i cittadini di tutti e quattro comuni e valutare quale sia il grado di consenso su questa ipotesi. Ovviamente la raccolta di adesioni è un'occasione per spiegare a tutti quali possano essere le potenzialità e le opportunità di un comune unico della Val d'Orcia. Va detto che questa nostra iniziativa nasce anche da un periodo estremamente lungo e negli ultimi tempi valutabile da tutti, ovvero un periodo in cui le politiche comuni del parco che è nato quasi 30 anni fa sono praticamente ferme. Sfido chiunque a dirmi quale sia un'iniziativa comune fatta dai comuni del parco nell'ultimo anno e forse anche negli ultimi 4 o 5. Salvo pochissime cose forse di carattere burocratico che i cittadini neanche hanno visto nessun'altra iniziativa è stata presa. Mentre questo territorio ha una potenzialità enorme. Solo il nome Val d'Orcia che qualche anno fa nessuno conosceva richiama l'idea di quella che può essere nella percezione di tutto il mondo e di tutta Italia l'idea della Toscana, i cipressi. Basta evocare Val d'Orcia che si evoca un'icona della Toscana, chiamiamola così. Quindi il fatto di poter avere un comune unico che riesce a promuovere questo territorio con politiche omogenee, con un progetto di sviluppo omogeneo e coordinato su tutta l'area ha delle potenzialità enormi. Ultime, ma non ultime insomma anche come importanza, è il fatto che le varie reggi nazionali e regionali ormai da diversi anni stanno restringendo ampiamente i margini di manovra dei piccoli comuni. Qui si parla di comuni di 2.000-2.500 abitanti, non di più. E i margini di manovra delle amministrazioni non sono più quelli di qualche anno fa. Ad oggi fanno poco più che l'ordinaria amministrazione. Quindi riuscire a metterli insieme creerebbe delle potenzialità che possono dare a questa nuova amministrazione delle margini di manovra ben più ampie, delle opportunità di poter incidere sullo sviluppo e sul benessere e sui servizi che erogano ai cittadini molto superiori a quelli attuali. I sindaci evidentemente devono avere in mente un'altra strategia per l'area perché questi lunghissimi anni di paralisi di qualsiasi tipo di iniziativa che riguardi il territorio dovevano e devono far scaturire un'idea, un progetto, qualcosa. Perché la Val d'Orcia sta e dovrà affrontare problemi enormi che riguardano l'agricoltura, l'assetto idrologico del terreno, la fruibilità, le strade bianche. Ci sono tantissimi problemi che sono davanti a noi, l'approvvigionamento idrico, problemi davanti a noi che evidentemente affrontati per ogni singolo comune non hanno alcuna chance di essere portati a soluzione. Un tavolo dove questi sindaci si ritrovino di fatto non esiste più perché dopo l'operazione dell'Unione dei Comuni a Miata e Val d'Orcia abbiamo avuto il risultato di non avere più la Miata e non avere più la Val d'Orcia. Abbiamo Pienza che ha aderito all'Unione dei Comuni a Val di Chiana, abbiamo Montalcino che nel frattempo si è fuso con San Giovanni d'Asso. Una situazione che evidentemente non può durare. Non può durare perché coincide con il massimo successo possibile e immaginabile dal punto di vista dell'immagine e del turismo della Val d'Orcia. Si dichiarano in Val d'Orcia da Perugia fino a Colle Valdelsa. Basta andare su internet e cercare i relais di Charma, gli hotel di Charma e quelli che vogliono attirare più pubblico si dichiarano in Val d'Orcia. Quindi ai sindaci noi chiediamo di dire la loro opinione come tutti dovranno dire perché questa cosa la decidono i cittadini, però anche di informarci su qual è la strategia per quest'area perché nessuna strategia corrisponde a una morte o comunque a un disgregamento di questo territorio che è straordinariamente bello e meriterebbe qualcosa di più. Dal punto di vista personale credo che io ho aderito da subito a questa iniziativa perché ritengo che un coordinamento dal punto di vista prima territoriale e dopo e anche poi fattivo è assolutamente necessario perché la Val d'Orcia in questo momento rappresenta un potenziale enorme. Già ora ne stiamo sfruttando in qualche modo quello che questo bellissimo territorio ci può dare. Gente da tutto il mondo viene qua per trovare un paesaggio, per trovare uno stile di vita, per trovare in qualche modo un ricongiungimento con se stessi. Credo che alla fine agli occhi del turista o diciamo sia italiano che straniero che viene qua parlare di confini comunali è qualcosa di, personalmente lo ritengo una sciocchezza, bello godere il paesaggio per com'è, senza barriere e senza confini. Tutti ne potremmo giovare ancora di più rispetto a quello che già oggi troviamo beneficio e allo stesso tempo già dal punto di vista urbanistico sono stati fatti dei piccoli sforzi. Ormai da almeno 7-8 anni a questa parte si parla di regolamenti urbanistici unificati, si parla di sistemi di gestione dell'edilizia esistente e quindi anche tutte le trasformazioni che devono avere lo stesso canone, lo stesso tipo di approccio e anche la stessa normativa di riferimento. A maggior ragione anche dietro a una lettura del territorio dal punto di vista molto più omogenea rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad oggi, anche la regione toscana ci impone in qualche modo una visione più globale e in questo senso il territorio della Val d'Orcia credo che rappresenti un assoluto esempio, un vessillo che noi tutti possiamo portare al petto e dobbiamo soprattutto curarlo e manutenerlo per tenerlo vivo e mantenere quella pill che ad oggi ha. Grazie.